Grazie per essere qui questa mattina. Con molto piacere sono a presentarvi e ad introdurre a voi e a tutta la cessione sportiva questi nostri due nuovi volti che sono, come spesso succede, cerco di fare sempre il frutto di un'indagine, di una ricerca di profili che siano contestualizzati nel nostro progetto tecnico e che hanno, cosa che mi preme ancora di più, le caratteristiche umane prima e poi tecniche per essere funzionali a quello che vogliamo cercare di fare. Sono due ragazzi che hanno ovviamente un'età e un percorso un po' diverso ma sui quali in entrambi i casi io ripongo grande fiducia. Carlo Ila, Ilari, poi ci svederà l'arcano di questa dicitura, non ha bisogno di tante presentazioni nel senso che è un giocatore che in questa categoria credo che sia un'assoluta garanzia e il suo percorso parla di un giocatore che sa abbinare in maniera molto bene sia la fase tecnica che la presenza in campo e la gestione tattica rispetto alla quale il nostro mister è molto attento e ha nel suo score stagioni condite dalla capacità realizzativa importante per il ruolo che ha, è un uomo sul quale insieme alla base di giocatori che abbiamo io e anche il mister ci affidiamo per una gestione di tutto il gruppo e rappresenta veramente un vanto perché in questo caso come in altre volte ma questo vale anche per Nannelli abbiamo vinto la concorrenza di tante squadre che in questa categoria erano pronte ad investire su questi profili. Nannelli è un giocatore giovane, tasse 2000 che io ho seguito tanto in quest'ultimo anno viene da un'esperienza nella Lucchese dove è stato uno dei giocatori più positivi è un giocatore che portiamo a Cesena con una formula definitiva di patrimonializzazione del parco tecnico quindi non è un prestito ma è un giocatore di proprietà del Cesena ci piacerebbe sperare che lui possa ricalcare un po' un'operazione che alla fine qui a 12 mesi ci porti delle opportunità per noi e per loro e per il ragazzo importanti. Oggi ci auguriamo che si inserisca bene nel nostro contesto ha caratteristiche abbastanza poliedriche perché è un giocatore che può giocare sul fronte d'attacco perlomeno sugli esterni sia in una condizione in cui dovessimo giocare con le punte aperte piuttosto che in un centrocampo di quattro e spero che lui colga questa opportunità che oggi noi, su quale il club oggi investe e che, come dire, possa legare a noi, al club Cesena FC la sua crescita personale. Non ho altro da aggiungere se non il fatto di esplicitarvi e di trasferirvi che la mia soddisfazione è per avere questi ragazzi nel nostro parco giocatori, nel nostro progetto tecnico. Grazie. Come hai vissuto questo mese e mezzo? Io dopo Sant'Arcangelo sono andato a Teramo per due anni poi sono stato alla San Benedettese e sono tornato a Teramo per altri due anni. Ovviamente di Sant'Arcangelo e della Romagna avevo un bel ricordo so cosa significa vivere qui e quindi, ritornando un po' a quello che mi dicevete prima appena mi si è posta questa opportunità questa possibilità e abbiamo aspettato dei tempi tecnici che poi ci vogliono per intavolare una trattativa e tutto anche perché di difficoltà quest'anno ce ne sono tante in qualunque squadra in qualunque tipo di situazione e quindi è giusto che ci siano dei tempi tecnici per cui una trattativa poi viene intavolata e poi si arriva a un accordo finale. La mia volontà era sin da subito quella di venire qui e come diceva il direttore anche se ci sono stati altri interessamenti la mia priorità era quella di venire a Cesena. Sì, 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 sono una mezzala, un centrocampista offensivo e nell'ultima stagione in particolare a Teramo ho giocato da quarto di centrocampo che è un po' quello che stavi dicendo prima però sì, sicuramente il mio ruolo naturale è quello di mezzala e anche se mi adatto molto facilmente anche ad altri ruoli nel senso che cerco di sfruttare le mie caratteristiche per poter aiutare la squadra anche in altre posizioni in campo. No, l'obiettivo è andare gradualmente nel senso che si parte con farne uno e poi si prosegue di lì in poi. No, a parte il fatto dei gol spero di essere utile alla squadra in qualunque situazione non c'è solo il gol all'interno di una partita spero di rappresentare appunto un punto fermo comunque una... niente, di tornare utile al mister in qualunque posizione mi voglia schierare per poter aiutare la squadra a vincere le partite questo è l'obiettivo principale. Ma non c'è molto da dire insomma Cesena è una piazza che è difficile rifiutare è abituata ad altre categorie e quindi so appunto come ti dicevo prima cosa significa stare qui in Romagna e in particolar modo di Cesena dobbiamo assolutamente cercare di fare un gran campionato perché è normale che la piazza sia ambiziosa che la tifoseria sia esigente quindi dovremmo cercare di fare del nostro meglio. Con Zauli ho un bellissimo rapporto e insomma anche ultimamente insomma gli ho fatto gli auguri per il suo compleanno e no ma con lui davvero c'è stata solo una volta la possibilità di parlare appunto di Cesena e io insomma ero molto entusiasta appunto di questa possibilità che si sarebbe potuta creare quindi sono felicissimo adesso di essere qui. Come dicevo prima per i gol io penso che sia una cosa graduale è normale che l'ambizione deve essere massima e poi sarà il campo a dirci quale sarà il nostro obiettivo è ovvio che la volontà è quella di vincere le partite quindi poi una volta che saremo in campo e vedremo quali sono i risultati che riusciremo a fare sarà quello poi l'indicativo per capire l'obiettivo finale della stagione quindi ripeto l'ambizione è massima quindi cercheremo di dare il massimo e di provare a vincere tutte le partite poi è chiaro che ci sono anche gli avversari ci sono grandi squadre nel nostro girone quindi vedremo di gara in gara. No no, le sensazioni sono positive c'è un bel gruppo si lavora molto bene c'è solo insomma da mettersi in forma da lavorare, da allenarci e trovare le giuste combinazioni in campo come ci richiede il mister e penso che con il tempo poi tutto verrà più facile e le cose le riporteremo in campo e se tutto andrà bene appunto e se le faremo bene insomma i risultati arriveranno di conseguenza. Conoscete già qualcuno? Sì sì, beh in particolare qualcuno tra i più esperti con qualcuno avevo anche già giocato quindi sì avevo giocato già con Steffè con Ricci e con Nardi a Sant'Arcangelo Sì sì, assolutamente ha influito anche quello sicuramente perché il mister vuole una squadra offensiva con tanti giocatori che riescono ad arrivare in area quindi si sposa perfettamente con le mie caratteristiche e poi che ci possa arrivare da esterno o da mezzala non è importante l'importante è cercare di coprire bene tutta l'area e cercare di appunto di fare più gol possibili quindi attaccando con tanti giocatori è ovvio che la possibilità è maggiore quindi come ripeto con le mie caratteristiche penso che sia perfetto riguardo all'anno scorso sì avevo anche visto delle partite della scorsa annata con il centrocampo a tre ben giocate quindi per me insomma che mi piace molto più fare fase offensiva che fase difensiva è normale che è una cosa positiva ecco quindi poi ci sarà anche da soffrire chiaramente perché bisogna abbinare tutte e due le fasi però insomma di base il fatto di voler attaccare in tanti e di voler comunque fare la partita è molto buono innanzitutto buongiorno a tutti e ringrazio poi il direttore delle belle parole e soprattutto della fiducia ripostami e niente io sono sono molto più giovane di di Carlo sono un giocatore prettamente offensivo comunque è un esterno che si adatta sia a destra che a sinistra in questi anni ho variato molto soprattutto lo scorso anno dove ho avuto Giovanni Lopez che variava a tanti moduli e quindi ho cambiato anche diverse posizioni sia da mezzala che da quinto che da esterno o anche da mezza punta però ecco sì il mio ruolo naturale è è un esterno offensivo ma sicuramente moltissimo perché alla fine del primo anno fuori casa perché comunque io sono vicino Empoli e e Luca comunque era era un'ora da casa quindi quando volevo potevo tornare Cesena è una città bellissima una piazza una piazza veramente bella dove si può crescere e credo di farlo soprattutto anche con il mister con con le sue idee tecniche tattiche mi sto mi sto ambientando devo devo imparare dai più grandi lo stesso lo stesso Carlo l'altro esterno è Giacomo Zecca niente devo devo continuare a lavorare umile sereno ma con la consapevolezza anche che posso inserirmi bene in questo gruppo difficile diciamo che due anni fa è stato un periodo brutto perché io comunque ho fatto dai pulcini fino fino alla primavera della Fiorentina quindi in circa dieci anni tutto e per tutto il settore giovanile vedere vedere ragazzi soprattutto stranieri con contratti importanti un po' faceva pensare poi la Fiorentina a giugno ha deciso di non puntare su di me e io in quel momento sono stato un po' male perché comunque era un ragazzo di Firenze cresciuto lì e quindi c'è un po' di c'è un po' di rammarico però mi sono rimboccato le maniche ho fatto un ritiro di 15 giorni a Cava subito dopo non mi hanno tenuto io a agosto ero ancora senza squadra Cava di Renzi a agosto ero ancora senza squadra e lì un po' ho sofferto quel periodo poi per fortuna è arrivata Lucca una società che voleva riscattarsi veniva da un fallimento e hanno puntato su di me io ho dato il massimo per ricambiare questa opportunità e da Lucca poi sono venuto fuori per fortuna no sicuramente sai quando viene anche da un settore giovanile importante come quello della Fiorentina c'è dietro tanto lavoro di di tecnica e quindi poi magari come un campionato di Serie D dove c'è anche parecchia forza forza fisica la tecnica non gli viene data importanza e quindi magari anche quello poi durante il campionato per le mie caratteristiche ha fatto ha fatto poi la differenza sì sì con Michael ci siamo sentiti poi comunque abbiamo fatto due anni insieme subito dopo la vittoria abbiamo stretto un bel legame infatti dopo dopo che ho saputo della firma qua a Cesena io l'ho chiamato e l'ho ringraziato perché comunque lui mi ha dato tanto e ho saputo poi che comunque lui era qui e mi ha dato un po' di consigli mi ha mi ha rassicurato e mi ha dato un grosso in bocca al lupo sì no sicuramente il primo incontro abbiamo parlato con il mister della fase realizzativa che comunque in questi anni anche giocando ad esterno non ho segnato quanto volevo è un punto in cui devo lavorare perché a quanto pare metto in porta compagni invece di fare gol è una cosa su cui lavoreremo lavorerò e non vedo l'ora poi di comunque iniziare sul campo a lavorare su questa cosa sì diciamo che avere un compagno che conosci fa sempre comodo però comunque è un bel gruppo i ragazzi grandi sono molto disponibili e quindi non c'è tanta difficoltà poi per interagire con gli altri quindi sì magari questo ragazzo mi dà una mano probabilmente forse anche fuori dal campo magari un'uscita ci vorrà un po' più di tempo ma è un bel gruppo e quindi non ci sono problemi su questo sì sì abbiamo parlato lui non mi ricordo dov'è di preciso ma vicino Ponte d'Era poi lui ha giocato a Empoli quindi conosce anche il mio paese nativo